ciao ragazzuoli in versione intellettualoide qua con gli occhiali che in realtà non sono da vista ma sono anti riflesso quindi per dato che ormai c'è una certa età va 38 anni e lavoro costantemente al computer è meglio che inizio un po' a salvaguardare gli occhi l'ecch faba faba la luce come si suol dire dunque è golman in milan ovviamente al centro il quello che sarà il prossimo match con lo spezia c'è stata la conferenza stampa alla vigilia appunto della sfida di san siro con alcune domande che mi hanno fatto un po sorridere comunque gotti tra l'altro luca gotti al di là di tutto ricordiamoci che non è un allenatore sproveduto è un tecnico capace di far giocare bene praticamente la propria squadra arriva a dire che nei campionati italiano difficilmente si trova alcuni sproveduto sul piano tecnico tattico ed è un unicum direi a livello proprio calcistico secondo me in europa neanche in premier league che sappiamo tutti essere un campionato più bello più bello nel con giocatori più forti e tutto però dal punto di vista tattico secondo me l'italia davvero non ha nulla a coinvidiare luca gotti ha avuto esperienze con sari quando era al celsi ha avuto esperienze con tudo insomma un allenatore che ha sicuramente un bel bagaglio tecnico è uno spezia che giocherà col classico 352 un uno spezia che fa molto del dinamismo su elemento portante specialmente la davanti quindi sarà secondo me si ben si lega con del nostra una nostra base di difensori che è secondo me dinamica quindi sarà meno forse bisogno del marcatore come su altre squadre penso con la juve con il puntero lo spezia con zola ghiasi e tutto il centro campo a gudelo che ricordiamo ci ha fatto ahimè male in passato e dei giocatori rapidi dinamici sarà molto di movimento bisognerà essere capaci secondo me di anticipare che nelle corde piene del milan e e probabilmente ci sarà anche ancora una volta da gestire il pressing che probabilmente faranno comunque gotti dice sappiamo quante forte milan il titolo che hanno sulla maglia non la testimonianza ma io volevo riportarvi una domanda che gli hanno fatto che mi ha fatto davvero sorridere perché gli hanno detto mi hanno fatto questa domanda in milan gioca ripartenza che atteggiamento dovrete avere ora io voglio promesso che non so chi l'abbia fatta ma solamente la cronaca della 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 conferenza io voglio sapere chi ha detto che milan gioca in ripartenza cioè si può dire tutto del milan ma che sia una squadra che gioca in ripartenza mi sa proprio di no quindi questo fa capire oltre alla sappiamo già la fazzosità ne abbiamo già parlato ma anche la competenza la competenza ora io non sono nessuno però ragazzi di fronte a giornalisti così di questo tipo mi sento mi sento panza mi sento montanelli in confronto vabbè comunque tant'è che anche gotti non ha risposto sì il milan gioca in ripartenza detto il milan ha parecchie qualità può gestire la partita in diversi modi poi sviando un po' la questione a qualità di palleggio a giocatori barri nello stretto suate quarti a giocatori di qualità e grande gambe che utilizzano bene gli spazi verissimo in certezione del campo non dovremmo concedere gli spazi dovremmo affrontare la partita consapevoli di queste caratteristiche e mi sembra logico in virtù di quello che vi ho detto cioè che probabilmente sarà un'altra partita dove vedremo ormai lo sanno quasi in realtà mi verba dire lo vedremo da qui all'infinito perché ormai come contromossa al piolismo tante squadre stanno facendo pressing alto per metterci in difficoltà nella fase di costruzione dell'azione in realtà la contromossa l'abbiamo vista cioè secondo me infoltire il centro campo o mettere comunque se vogliamo tenere 4 2 3 1 un tequartista che abbia capacità anche di far bene la doppia fase adesso 4 c'è una zanzara ovviamente a novembre ci sono ancora le zanzare che mi stanno rompendo i marroni ma vabbè mi devo aggattare un attimino la gamba al dia di ciò avere un tequartista che abbia competenza anche in fase di supporto alla mediana e non mi sorprende quindi l'indiscrezione che secondo me capita a fagiolo come si suol dire di un potenziale crescita delle quotazioni di titolarità di Aster Franks che secondo me quasi dice potrà giocare da tre quartisti in realtà sappiamo bene che il numero 10 del Milan o meno di quello che è la formazione attuale è un giocatore collante tra mediana e tre quarti in realtà con un giocatore di questo tipo diciamo che assomiglierebbe più a un 4 3 3 che a un 4 2 3 1 ho permesso che sono pippe tattiche con a destra di Iaz quindi verrebbe un po' ricrearsi la situazione della dinamica che abbiamo visto con la Juventus che hanno funzionato piuttosto bene e davanti Giroud sembrerebbe ancora il favorito anche se secondo me Origi dal mio punto di vista probabilmente anche perché ha riposato potrebbe essere mi piacerebbe vederlo e a sinistra chiaramente l'Eao quindi più o meno questo dovrebbe essere la contorisposta tattica a mio avviso sensatissima ma ripeto secondo me il Milan adesso non può permettersi un tequartista che non sia un tequartista di quel tipo perché? Perché avevamo detto anche l'El Coltringa fin tanto che non c'è Mignon che sembra una stupidaggine tutta la fase difensiva del Milan è differente per certi versi fa più fatica il Milan a tenere alta la squadra ragion per cui se non c'è un i difensori stanno un po' più bassi se non c'è un tequartista che fa quel ruolo rischia spesso di staccarsi quella che è la parte difensiva prettamente difensiva della squadra con la parte offensiva che hanno poi un vulnus centrale che poi può creare delle problematiche in fase appunto di gestione degli attacchi avversari Corri da Sera, Mila in premi UEFA per sbloccare il rinnovo di Leao le richieste del portoghese per restare trattativa lunga, vabbè lo sappiamo si dice qua che in base a quelle che saranno probabilmente che sono gli ingressi economici legati al passaggio del T1 quindi 20 milioni di euro dovrebbe questo aiutare ulteriormente quello che sarà il rinnovo secondo me alla fine del rinnovo ci sarà non sarà una roba semplicissima ma ci sarà Leao sembrerebbe corrida ogni volta anche qua andiamoci sempre con le pinze perché sono tutte una volta si dice una cifra una volta un'altra sono sempre smentite ora si torna a 7 poi c'era stato 8,5 poi c'era 6 non si capisce mai niente io fin tanto che non ci sono questioni chiare e esplicite sono tutte ipotesi quello che mi fa propendere sul fatto che si possa concludere bene la trattativa è che Maldini si sia effettivamente esposto spiccando non ha chiuso la trattativa prima del mondiale ma staremo a vedere sempre in materia di rinnovi pare prossimo il rinnovo di Olivier Giroud che mi sembra un giocatore al di là più che fa tanti gol fa il gol pesante io tra la quantità e la qualità in tutte le cose della vita che sia il cibo che sia quello che volete che sia un viaggio o quant'altro preferisco sempre la qualità alla quantità e Giroud oltre al fatto che comunque non fa pochi gol fa tutti i gol che pesano di piombo e quindi si va verso probabilmente il rinnovo con anche Zlatan che ha dato un suo ulteriore una sua ulteriore approvazione a Ruoli Giroud dice Giroud merita assolutamente di andare al mondiale con la Francia è un vincente una persona seria non farà mai 40 gol all'anno ma porta quel qualcosa che altri non fanno non è egocentico gioca per tutti quando è arrivato ha dato una grande mano e ha fatto grandi cose mi sembra una dichiarazione sottoscrivere appieno infine Serie A Brem Diaz con il gol alla Juve che ricordiamo tutti poi ne ha fatto anche un altro con Monza bellissimo gli piace fare i gol belli si è giudicato il primo gol of the month di ottobre per la rete contro la Juventus abbiamo fatto la nostra chiacchierata io vi saluto se vi è piaciuto il video mettete mi piace se non vi è piaciuto non mettete mi piace o mettete non mi piace sono eco in questo iscrivetevi se vi va se non vi va non iscrivetevi mi sembra logico quindi non sto neanche a ripeterlo vi ringrazio per la vostra attenzione alla prossima ciao